Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Questa mattina partiamo con un video di pallacanestro, infatti la sfida tra la Virtus Bologna e l'Alba Berlino per l'Eurolega. Chiedo scusa, sono un po' in ritardo, avrebbe dovuto uscire prima questo video, ho avuto dei problemi di linea che mi impedivano di caricarlo. La partita che ci voleva per la Virtus riduce da un paio di brutti momenti delle ultime due sfide, perse molto male, sia quella contro l'Olimpia Costa largamente al Pireo, sia quella di campionato contro la Scafati. L'avversario era quella ideale, un'Alba in difficoltà, un'Alba che era partita molto bene quest'anno vincendo le prime partite, tra l'altro una molto buona a Milano per quanto poi il forum abbiamo scoperto diventare poi terreno di conquista anche per tutte le altre squadre fino ad ora. Però la Virtus degli ultimi giorni non lasciava per forza presagire necessariamente una bella prestazione. Invece c'è stata, il successo è stato 85-76, un successo bello anche in controllo, il valore dell'avversaria quello che è, ma qui non è importante perché non è che Scafati fosse la squadra più forte del mondo, eppure la Virtus ci ha perso male qualche giorno fa. L'importante era una buona prestazione ed era soprattutto portare a casa questi due punti che in questo momento della stagione fanno assolutamente comodo, sfruttando anche il fattore campo in questa settimana che vede due partite casalinghe. La Virtus ha vinto in controllo, non ha sostanzialmente mai sofferto, non ha avuto grossi cari di tensione, è riuscito ad alzare anche il ritmo dell'impatto difensivo, ha tenuto l'Alba a 29 punti nel primo tempo, che è un ottimo risultato perché la squadra tedesca riesce a correre, andare in velocità e a segnare punti piuttosto facilmente, invece stavolta gli è stato impedito. Devo dire che è stata una partita simile a quella dell'Eurocup dell'anno scorso, perché è anche complice il dominio di JT sotto canestro che è ritornato nel suo assetto da miglior giocatore della manifestazione dello scorso anno. La partita si è decisa sostanzialmente già nel primo tempo, poi nel secondo tempo alti e bassi nel tiremola del punteggio, però la Virtus penso abbia avuto sempre in controllo la gara e l'ha portata a termine, sfruttando anche le tante buone prestazioni individuali che ha avuto da quasi tutti i giocatori, perché penso ce ne sia soltanto uno insufficiente nella partita di ieri. La buona prestazione quindi di squadra è uno degli elementi fondamentali, 40-29 il primo tempo, 45-47 la ripresa. Buona la scelta dei tiri, Bologna ha fatto 41 tiri da due punti e 18 da tre, vi piace una distinzione così netta tra il tiro da due e il tiro da tre, peraltro nella partita perfetta del 61% da due e il 39 da tre. Dalla lunetta è nata discretamente, 14 su 20 il 70%, è ottimo, stavolta è tornato Teodostici, naturalmente questo aiuta molto, la razza tra le palle perse e gli assist, 9 soltanto i palloni persi, ben 25 gli assist e questo è sempre un dato molto positivo. L'Alba ha tirato malissimo da tre, 6 su 22 col 27%, ha vinto a rimbalzo 32-24 ma ha perso ben 14 palloni. Molto male Blatt, che a Milano fu uno dei migliori e fu decisivo, il figlio del coach e molto bravo Sigma, che è un giocatore splendido da vedere. In certe azioni era più divertente guardare quello che faceva Sigma e vedere dall'alto della sua notevole intelligenza cestistica, capire dove sarebbe nato il pallone e la sua giocata, quindi di conseguenza piuttosto che vedere il resto della partita. Veramente un bel giocatore. Come detto in casa Virtus, mi sono piaciuti i lunghi, stavolta per i Caité, 13 punti, 6 su 8, 6 rimbalzi, 15 di valutazione, una gara intensa, è partito bene, solito paio di falli magari anche imbaginifici da parte degli arbitri, ma comunque è stato bravo a tenere, a stare concentrato sulla sfida e non mi è dispiaciuto neanche Bacó, stavolta 10 punti, 4 su 4 e 12 di valutazione. Certo gli aiutati lo schema di ieri, che era sostanzialmente tipo calcio, di cross al centro di Milos Teodosic in formato smagliante, che con visioni assolute liberava i due centri, palla in aria e tutti giù a schiacciare o comunque ad andare a concludere. Milos in 20 minuti, 11 punti, 3 su 6 da 3, 5 rimbalzi, 5 palle perse, ma anche 9 assist e 15 di valutazione. Questo è il Teodosic di cui c'è bisogno e si è riuscito a trattenere quando nel finale gli è stata fischiata una violazione di doppio palleggio. Si è alzato andando a protestare con l'arbitro, ma per fortuna si è trattenuto e non ha ripetuto il disastro che aveva fatto contro l'Efes. L'NVP di giornata penso sia Wims, che è da sempre uno dei giocatori più consistenti e più concreti in casa Virtus. 16 punti, 7 su 8, 2 rimbalzi, 16 di valutazione. Un giocatore molto serio, un giocatore molto solido, che mi fa sempre piacere vedere anche su certi livelli e credo sia l'NVP di giornata. Scengeglia sta crescendo, piano piano non è ancora lo Scengeglia che può dominare. Leggo poi, ho letto anche un po' i amici, grazie per i vostri messaggi, sempre non riesco a rispondervi ogni volta purtroppo, ma leggo sempre i vostri commenti. Io, Scengeglia, sono convinto sia tra i giocatori chiave di questa Virtus, non è probabilmente un crack assoluto, però è un buonissimo giocatore che il Nerolega, credo il suo impatto positivo lo possa dare, ho voglia di vederlo in salute, vedere che cosa può essere lo Scengeglia non limitato da problemi fisici che ha avuto in questo inizio di stagione. Buono anche Hackett, 13 punti, 5 su 6, 4 assist, 4 palle per, perse il ministro della difesa, lui c'era, ha giocato bene, Paiola ha rientrato da sempre il suo apporto, è fuori il gelege, purtroppo, e ho letto che si sta valutando qualche soluzione per rimpiazzarlo e per portare quindi un nuovo apporto nel roster durante la sua assenza, però questo Hackett anche ha fatto piuttosto bene, la divisione campionato ha riposato serenamente in panchina, quindi 0 minuti per Bellinelli, 0 minuti per Magnion, in vista di Brescia domenica che è comunque un test piuttosto importante, e l'unico giocatore negativo, la crisi di rigetto che sta colpendo Lundberg, 18 minuti, 2 punti, 1 su 6, meno 2, uno dei giocatori migliori dell'inizio di stagione Virtus, in questo momento sta attraversando sicuramente un passaggio a vuoto, credo sia normale nel corso della stagione, non sono particolarmente preoccupato, certo è strano vedere un giocatore che fa proprio dell'efficienza il suo marchio di fabbrica, vederlo così in difficoltà mi lascia piuttosto perpresso. Ora si finisce la settimana con il Maccabi, 7-20 e 6 perse, Maccabi che ho visto dal vivo a Milano martedì, perché come sapete è una delle mie squadre preferite in assoluto, e mi piace sempre andarla a vedere anche dal vivo, è una squadra non credo fortissima quest'anno, è una squadra che ha ampi margini di crescita, è una squadra atletica che ha un roster molto lungo, perché a Milano la partita l'ha vinta nel terzo quarto, facendo uscire dalla panchina di Bartolomeo Colson e l'ottimo Sorkin che hanno cambiato la gara. È un roster quindi molto lungo, sotto canestro Nibo è molto forte, Lorenzo Brown, playmaker di grande qualità, non sarà assolutamente una partita facile, Maccabi ha vinto una sola partita in trasferta, quella di Milano, quindi non è una squadra abituatissima, mentre è molto forte in casa quest'anno ma in trasferta fa fatica, credo sarà una delle partite più interessanti della stagione da vedere, penso sia un ottimo crocevia anche per capire il resto della stagione Virtus. Fatemi sapere ragazzi le vostre impressioni su questa gara, prospettive per il Maccabi, iscrivetevi al canale, ciao a tutti e un bacio da Lox. Ciao! Grazie a tutti.